E bella a tutti ragazzi, benvenuti qui dal vostro velo, oggi siamo sempre qui con il nostro fantastico Mansfield Town abbiamo fatto un inizio di stagione veramente da paura, quindi sono veramente carico per questa stagione che ci aspetta in seguito abbiamo anche nella realtà gli europei che ormai io sto registrando questo episodio di martedì 8 quindi manca anche poco agli europei, fatemi sapere secondo voi chi arriverà in finale e l'Italia dove riusciremo ad arrivare, io sono abbastanza fiducioso su questa nazionale ma non voglio illudermi troppo perché poi ci rimango male, io comunque la nazionale ci tengo veramente tanto perché a me piace proprio guardarla l'Italia non so voi, comunque fatemi sapere sotto nei commenti, detto questo la classifica marcatori non ci vede mai sorridere direi di andare con la squadra delle riserve per forza perché poi abbiamo la partita di Champions League che ci accoglierà nell'Europa che conta detto questo andiamo a giocarci questa partita con il West Bromwich sperando di continuare nei risultati utili e ci vediamo in campo ed eccoci qua, è tutto pronto, comincia West Bromwich, Mansfield Town, vediamo cosa ci saprà regalare questa partita Ferreira dai libero il movimento di Dyke, Dyke che la controlla, arriva però l'ottima parata del portiere siamo contro la peggior difesa quindi vi prego regà non facciamo scherzi con Dyke che prova ancora calcio d'angolo Taylor la mette ancora per Dyke e la seconda volta non sbaglia il gigante americano non perdona mai di testa meno male almeno quello visto che sia un po' spento anche lui però adesso spero che questa stagione sia quella della consacrazione per lui anche perché è stato vicino, una possibile cessione nel calcio mercato perché le cifre cominciavano a diventare importanti ma abbiamo deciso di dargli ancora fiducia quindi finora diciamo che la sta ripagando come si deve Ferreira, Dyke, larga tutto su Pembele, che vedo che è uno che si butta molto in avanti questa cosa mi piace, qua prova a metterla dentro però viene intercettato, tiene ancora lì viva l'appoggio per Taylor Taylor prova a metterla dietro, non riesce però a colpire, ripartono adesso qui con Antuna Antuna che salta carbone, Ruiz, Giuliani in copertura, saltato forse no, attenzione a questi buchi, attenzione a questi buchi prova ad andare maionese, saltato anche lui, parla fuori di un soffio sul tiro di Gravenberg finisce qui, un primo tempo dove abbiamo giocato bene, solo che loro oggettivamente con questa difesa 5 non passa nulla e quando attaccano, attaccano solo in due quindi riusciamo sempre a fermarli però oggettivamente il gol è arrivato da una palla inattiva quindi per il resto non una partita così scoppiettante loro hanno avuto quell'occasione con Gravenberg però il primo tempo un po' sotto tono Moriba prova a lanciare lungo Ferreira che è scattato bene Ferreira la mette giù, può appoggiarla lì per Della Fuente che ricambia il favore Ferreira, miracolo del portiere bella giocata qua tra due giovani americani ancora proviamo da una palla inattiva ma si chiude bene qua la difesa partita minuto 82 ancora solo 1 a 0 non voglio gufarmela partita un po' spenta in questo secondo tempo vediamo qua se riusciamo a chiuderla così non viviamo un finale da brivido perché loro in difesa ragazzi si stanno chiudendo molto bene guardate qua che roba grandi interventi oggettivamente non riusciamo più a trovare spazi anzi non li abbiamo trovati per tutto questo secondo tempo perché non sbagliano nulla poi fanno questa melina di apertura del campo e noi ci stiamo dietro però qua taylor forse è riuscito a recuperare un gran pallone il fuoco di spagna il fuoco di spagna è partito però niente non si passa finisce qui un 1 a 0 tirato tirato contro West Bromwich che si è difeso solo praticamente si è difeso bene ha creato quelle due occasioni in tutta la partita che per un attimo ci hanno fatto tremare però oggettivamente siamo a 5 vittorie su 5 se non erro e adesso arriva l'esordio più importante quello che stiamo aspettando da sempre qua abbiamo la Champions che ovviamente non posso far sentire per copyright quindi ci parlerò sopra sempre bella la Champions finalmente siamo arrivati anche noi nell'Europa che conta tra le big un girone come abbiamo visto da non sottovalutare perché il CSKA Mosca secondo me può farci il classico sgambetto scomodo che ci porterebbe alla rovina quindi bisogna stare attenti e concentrati qua fortunatamente Ocampos è tornato io farei così perfetto quindi risistemiamo la squadra dei titolari e direi che possiamo andare a immergerci subito nella UEFA Champions League la prima partita l'esordio per questa squadra a livello assoluto chi l'avrebbe mai detto siamo qui e adesso però bisogna passarlo almeno il girone mi sono prefissato l'obiettivo di passarlo poi dopo va bene tanto abbiamo venduto Auxon che siamo riusciti finalmente e che dire tutto pronto ci vediamo in campo ed ecco qua comincia Mansfield Town CSKA Mosca esordio assoluto penso anche forse per non tutti i miei giocatori ma la maggior parte sicuro Dickman Latibodieu milanese prima volta che toccano questo campo sentono magari un po' di pressione quindi dobbiamo stare anche attenti sotto questo aspetto non dobbiamo sotto mai sottovalutare l'avversario perché soprattutto le competizioni su FIFA sono sempre abbastanza ostiche qua però forse sbagliano riusciamo a riguadagnare una rimessa laterale con Ocampos che appoggia per Herrera Elmas Willock porta palla Elmas prova a saltarsi l'avversario e ci riesce con un fallo anche Willock può cercare cross sul secondo palo dove arriva Grone deve che prova a ributtarla dentro Elmas però non riesce a colpirla bene di testa riparte il CSKA bella palla recuperata mamma mia bellissima Lenn forse tutto regolare ma si mangia una chiara occasione da rete miracolo da parte del portiere ma in verità più il tiro non irresistibile proviamo adesso qua dalla bandierina esce ancora bene il portiere c'è però la tipo di che si fa superare recupera Dickman che prova ad allargare tutto per Willock che prova a metterla dietro per Aurelien che riprova a ributtarla dentro ma escono ancora loro Pellegrini addirittura avanza Pellegrini in mezzo c'è Gronell il cross però non è irresistibile anche perché Gronell non so perché si è fermato però calcio d'angolo Gronell della bandierina c'è Ocampos che può staccare ancora loro Gronell controlla un po' così però ancora la palla tre piedi Aurelien Aurelien può scaricare la botta deviata forse alta di poco ancora calcio d'angolo ancora Gronell sempre a cercare Ocampos parlare spinta tipo 2 tipo 2 facci sognare la tipo 2 facci sognare diciamo che l'ho provata un po' così per lo spettacolo ecco ancora noi con Willock che torna indietro da Elmas Willock appoggio per Ocampos Ocampos c'è un po' di spazio Ocampos scarica la botta e ancora un'ottima risposta del portiere ancora calcio d'angolo ancora cercare Ocampos che non riesce a dare forza alla palla a recuperare il portiere ancora noi con Aurelien Aurelien poggio per Elmas che la controlla ancora Elmas ancora Aurelien non c'è spazio Elmas Aurelien prova qua una triangolazione la ricerca di spazi ancora con Aurelien poggio per Willock Willock che prova a saltarsi difensore non ci riesce ma sbagliano ancora noi con Aurelien prova ad andare dentro Aurelien 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 non c'è spazio non c'è spazio Aurelien Aurelien niente rigore incredibile un po' regalato mamma mia però che difesa del pallone che ha fatto Aurelien non mi mollava più qua vediamo se non lo so in cielo non so se c'era non so se non c'era adesso vediamo se riusciamo a sbagliarlo magari Ocampos li tira meglio non lo so direi cioè direi oddio diciamo che no devo allenarli un po' sui rigori perché abbiamo un po' degli scarponi a tirarli parte Ocampos mamma mia io giuro pensavo fosse parata perché il portiere si era buttato benissimo però Ocampos l'ha tirato in maniera perfetta l'ha messo lì forse anche un po' aiutato dal palo gran gol grande freddezza l'abbiamo preso per questo l'esperienza che conta la sblocca proprio lui 1-0 Macefield Town in Champions ci sblocca Ocampos a questo voluto dall'allenatore proprio per l'esperienza che ha sulle spalle deve essere lui uno dei trascinatori di questo Macefield in questa competizione attenzione qua ultimo a fondo del CSKA attenzione Gaic su pallone Herrera prova a chiuderlo si prende una mezza busta però ritorna sui suoi passi ma sbaglia ma nonostante ciò finisce il primo tempo un primo tempo che ci ha visto oggettivamente dominare secondo me abbiamo fatto tanto possesso palla anche loro molto chiusi pochi spazi però abbiamo trovato il nostro gollettino che non è da su da buttare però attenzione perché non lo so mi puzza mi puzza un po' quindi c'è comunque da rimanere concentrati attenzione qua CSKA Mosca Dickman fa una grande chiusura ma non ancora parla loro attenzione che sono partiti nettamente meglio Vlasic chiude bene ancora un Aurelien pazzesco anche a livello difensivo che adesso prova a far ripartire la squadra con questo lancio lungo perfetto per Len che prova ad allargare impreciso però per Gronell attenzione qua il buco insolito Fernandez Dickman la palla rimane lì deve chiudere Pellegrini palla dietro attenzione niente non gliela togli più Vlasic Vlasic la tipo di saltato di netto Dickman mamma mia che chiusura di Dickman calcio d'angolo palla dentro cercare qualcuno di testa Gronell spazza su ancora loro CSKA in dominio della partita in questo inizio praticamente di secondo tempo tene qua Gaic appoggio dietro proviamo a chiuderlo mamma mia Dickman possiamo ripartire adesso che sono sbilanciati Elmas Elmas galoppa Len non scatta prova a scattare Willock ma serve Gronell si ferma l'appoggio indietro è per Len c'è spazio lì per Willock però tirato giù tutto regolare per l'arbitro CSKA che si difende e prova la ripartenza qua Len bello lo scambio con Willock prova a inserirsi Gronell visto Gronell ottima risposta del portiere all'ottantesimo riusciamo a ritirare in porta calcio d'angolo cercare la tipo di che è saltato bene e palla fuori di un niente 85 minuti sul cronometro attacca qua il CSKA che prova Dickman spazio Campos difende il pallone possiamo provare forse l'ultima azione di questa partita con Elmas Elmas che prova a tagliare il campo c'è spazio per Ocampos servito Ocampos prova il tocchetto per Willock che non riesce a colpire la di testa e mi sa che la partita adesso vediamo l'entità del recupero ma non ci sarà molto infatti un minuto gli ultimi secondi di questo match vediamo se l'arbitro fa finire l'azione al CSKA vediamo un po' se arriva la beffa del novantesimo con la Tv2 che la mette su e finisce qui un altro 1-0 un'altra partita abbastanza sofferta sempre nel secondo tempo questa cosa fa un po' riflettere perché siamo un po' calanti nelle prestazioni a livello dei 90 minuti però nonostante ciò siamo riusciti in una vittoria importante le azioni le abbiamo create però un risultato che volevo un po' di più intanto il Lechk che pareggia col Barcellona tutto nella norma però dai tre punti importantissimi per dare fiducia e morale adesso c'è il Wolverhampton squadra ostica noi per ora siamo a 5 su 5 non diciamo troppo ad alta voce perché se no ci sente il gioco e ci fa perdere detto questo Moriba non giocherai perché voglio farvi giocare in coppa quindi ci aspettiamo partite più importanti detto questo direi andare subito in campo con il Wolverhampton con i titolari e ci vediamo in campo ed ecco qua è tutto pronto cominciamo in sfiltà un Wolverhampton attenzione al Wolverhampton perché c'è veramente uno squadrone sempre tosto quando l'abbiamo incontrato vediamo di alzare la testa anche con loro visto che c'è una striscia positiva di vittoria attenzione qua Pellegrini Pellegrini impazzito Pellegrini taglia tutto il campo Pellegrini non gli va addosso nessuno Pellegrini Pellegrini mamma mia addirittura al tiro lì forse potevo guardare qualcuno in mezzo ma ormai era partito il cavallo matto calcio d'angolo subito dopo 4 minuti nel vuoto più totale Ocampos galvanizzato dopo il gol in Champions gol vittoria tra l'altro Ocampos Ocampos fino in fondo Ocampos prova la finta all'ultimo non ci casca però la difesa ancora calcio d'angolo dalla bandierina sempre Groenelveld si chiude però bene la difesa attenzione qua può pure ripartire con Malen però non si intende a noi due recuperiamo noi attenzione qua brutto intervento di Ocampos che si becca un cartellino giallo meno male perché è fatto veramente male lì al terzino è entrato abbastanza cattivo e poi è entrato ancora più cattivo su Osard che adesso qua prova l'affondo Herrera lo chiude solo per un attimo no no è partito è partito la bandierina palla dentro miracolo di Milanese eh niente ammizzi che loro sono veramente inarrestabili quando partono in contropiedere con Malen e Osard fanno proprio i buchi qua però Elmas recupera un gran pallone Elmas che mi sta piacendo veramente un sacco grazie mille per avermelo consigliato è una bestia Elmas Elmas proverà il cross dentro per Len peccato anticipato c'è il pallone e appoggia subito per Len Len con la velocità può sorprenderti tutti Len però non sorprende il portiere ennesimo calcio d'angolo della partita Gronell va a cercare il movimento di Ocampos miracolo sulla linea del difensore Giles l'appoggia per Hazard indietro per Ruben Neves Roberto Giles attenzione che non si è ammessi benissimo chiude però la tipo di Ema ancora sto Giles è saltato di Netterrera Giles Giles Hazard prova a scambiare non concedere l'angolo invece se la trascina proprio fuori calcio d'angolo i minuti di recupero palla dentro proviamo a spazzare penso che l'arbitro farà finire qui questo primo tempo dove non ci sono stati gol non c'è stato nulla di clamoroso a parte quell'angolo sulla linea lì un paio di azioni da parte nostra ma anche loro sono più preoccupato per quando ripartano quindi mi sto un po' forse difendendo troppo e tralasciando quella che è la parte offensiva proveremo un attimo a sbilanciarci di più in questo secondo tempo però ho paura perché con questa squadra qua sempre un rischio visto soprattutto Malen che è una bestia veramente indescrivibile qua però Dickman lo è di più ecco però un gran pallone Willock che viene subito fermato ma c'è Elmas Elmas prova a risalire con le finte ce l'appoggio per Len troppo lungo Malen prova a chiuderlo Dickman mamma mia che pulizia che fa sempre Dickman sale lui appoggio per Len che l'allarga bene per Aurelien c'è spazio Aurelien Aurelien fondo Aurelien non ci posso credere l'ha sbagliato veramente pazzesco andiamo a far entrare Moriba un po' più fisico rispetto a Elmas che era un po' stanco qua recupera bene Groneville per Willock richiede palla Groneville servito palla però forse un po' troppo lunga Groneville Groneville povera utile giro mamma mia Willock bel colpo di tacco per Moriba appoggio Ocampos Ocampos niente da fare oh la madonna che palla gli ha dato lì mamma mia ma che giocata ha fatto attenzione qua Hazard Hazard super sbilanciato di noi non affronta Dickman perché c'è parura però c'è Giles che salta di netto Herrera Herrera un po' sottotono Malen Malen chiude la tippo di dai che ripartiamo noi dai che è partito Len Willock l'ha visto Len controllo e tiro di Len niente non ha più il killer che aveva una volta calcio d'angolo Ocampos chiuso controlla Dickman come la tippo di Dickman palla deviata niente il portiere arriva ovunque in zona Giles incubo di questa partita su questa fascia tiene il pallone come nessuno veramente avanti e indietro avanti e indietro finte contro finte sempre lì attenzione qua adesso Malen però Dickman proprio non l'ha fatto mai passare Moriba ultima occasione Moriba prova ad andare lui e niente perde pure il rimpallo e riparte qua però male Willock un po' giù di prima per Gronel che aspetta Pellegrini prova a lanciarlo ci riesce in qualche modo Pellegrini ha un po' di spazio Pellegrini col cross dentro chiude bene la difesa vediamo se ci arriva di testa sì per qualcuno che non non ci arriva Aurelien prova la sfonda ancora loro ripartono invece no perché c'è Gronel azione infinita Aurelien Ocampos attenzione qua momenti fondamentali sprecato tutto finisce qui 0-0 arriva lo stop da davanti a un Wolverhampton veramente incredibile difesa assurda ma proprio tutta la squadra veramente pazzesca non è successo molto è stata una partita molto più tattica nessuna delle due squadre riusciva a trovare quel guizzo vincente però va bene così un pareggio ci può stare soprattutto se arriva col Wolverhampton che era una squadra che anche solo l'anno scorso ci ci strapazzava un po' l'abbiamo tenuto abbastanza Abada adesso arriviamo alla partita di Coppa che andrei a simulare questo turno 3 di Coppa senza pensarci eeeh no Dunne simulazione veloce dispiace azione veloce vediamo un po' cosa ne esce vinciamo 2-1 doppietta del fuoco di Spagna ottimo così arriviamo alla partita con l'Arsenal dove dire di giocare ancora con le riserve perché dopo abbiamo il Bayern e sincero alla Champions voglio puntarci veramente tutto e quindi direi che può essere la scelta più saggia tanto giustamente il campionato siamo messi abbastanza bene speriamo di rendere al meglio anche con le riserve ci vediamo in campo tutto pronto comincia all'Emirates Stadium Arsenal Mansfield Town formazione ospite che si schiera con la squadra delle riserve perché perché si raga io credo in loro oggettivamente in difesa non hanno proprio dei pilastri oggettivamente comunque il nostro attacco sarebbe quasi da squadra titolare secondo me quindi non voglio azzardare troppo diciamo che sarà dietro dove faremo un po' più di fatica ma con un Taylor così la partita può essere tutta in discesa e poi punto tutto sul mio fuoco di Spagna che l'appoggia per Dyke ti prego Dyke sbloccala subito così e invece no per un attimo ci ho sperato si propone anche Carbone servito Carbone contro Saka Carbone lo lascia sul posto Carbone poggia dietro per Ferreira la difesa però chiude calcio d'angolo palla dentro c'è Dyke la sblocca sempre lui dai calci d'angolo incredibile esultanza alla Balotelli provocatoria magari cerca una maglia da titolare che però difficile si può restare uno come Len qua aiutato direi dal petto lì del difensore quindi un po' più un autogol però il gioco lo dà lui quindi 1-0 Mansfield adesso dobbiamo usare la testa perché loro comunque hanno preso anche Kulus non l'avevo visto quindi porca miseria dobbiamo stare attenti la davanti perché la davanti fanno paura dietro sono un po' più vulnerabili tra virgolette però la davanti sono pericolosi ma io mi fido del mio super maionese capitano che li fermerà tutti ma è a Pembele mazza quanto corre regà Pembele no no errore gravissimo errore gravissimo Kudus Richarlinson 1-1 io mi fido di maionese e mannaggia lui non l'ha stoppata bene di regà e gli ha portato via il pallone Kudus eh errore grave grave Kudus ahia Kudus Giuliani su di lui lo chiude in maniera un po' fortunata ma ancora loro attenzione al fallo Kudus 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 palla dentro e gol della merda servito allo scaldere così per eh che dire lì se l'è perso Giuliani due volte perché si è perso sia Kudus prima che il numero 37 qua che perdonatemi non ho letto il nome Ben Sheff che allo scadere di questo primo tempo ci purga 2-1 Arsenal peccato perché eravamo partiti bene e poi quell'errore lì di Maionese ha un po' tagliato le gambe e questo gol allo scadere ancora di più dai puntiamo al pareggio rimaniamo umili non voglio non voglio una sconfitta perché la difesa loro è penetrabile e i titolari sono tra virgolette un po' stanchi quindi dobbiamo approfittarne io ci credo Taylor Dyke guarda lì che buco subito Ferreira subito Ferreira eh grande risposta però di Leno lì forse potevo fare anche qualche passo in più però c'è Dyke che dalla bandierina non delude mai peccato palla ancora lì Taylor 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 di testa ancora angolo dai Dyke è tua è tua selezionato Giuliani che però non ci arriva c'è Taylor Taylor chiuso della fuente le prova appoggio per Ferreira che si gira però non dà potenza al tiro e Leno la prende e riparte Ferreira eh niente mettono sempre quel piede però qua forse con il rimpallo c'è andata bene allarga per il fuoco di Spagna non ci credo la deviata Kudus sì Kudus rega Dyke capisco più niente mannaggia lui tipo chi era Lukaku su Sanchez in Champions League con lo Shakhtar se non erro stessa scena però non dà calcio d'angolo mannaggia Dyke grande chiusura di Pembele può far ripartire il fuoco di Spagna che mette bellissimo pallone per Dyke ti prego fatti perdonare fatti perdonare Dyke fino in fondo Dyke palla rimane lì e spazza via la difesa ancora noi Ferreira mamma io non ho capito sta mossa della fuente per Carbone mamma io che giocate di Carbone dietro ti prego Ferreira no dai ma da lì non puoi tirare una cioffecata del genere attenzione qua attenzione finita 3 a 1 Arsenal Larry Charlinson porca miseria ci siamo mangiati quell'occasione con Ferreira e lo sapevo che ce la faceva pagare niente 3 a 1 all'86 direi partita chiusa a meno che conoscendo il gioco adesso ci farà fare un gol così ci farà dire wow speriamo che di farcela è ma mi sa che non facciamo neanche quello sconfitta meritata soprattutto in questo secondo tempo loro sono proprio partiti per l'autostrada noi non siamo riusciti a rimanergli mai dietro qua non so cosa stia succedendo non è successo nulla e peccato perché per un attimo ci ho creduto poi loro hanno cominciato a fare tutta la melina e tutte le cose e nulla risultato giusto arriva la prima sconfitta di questa stagione contro una squadra che non cioè si vabbè magari con le riserve mi aspettavo una una sconfitta però mi ero illuso nel pareggio secondo me con tutte le occasioni che abbiamo avuto potevamo raggiungerlo ma va bene così purtroppo l'episodio si conclude con questa questo neo che può succedere così almeno rimettiamo un po' la testa a posto soprattutto per la partita che abbiamo adesso dove dobbiamo rialzare per forza la testa giocheremo con i titolari giocheremo sempre in Champions League e giocheremo contro il Bayer Monaco che ha perso che ha perso contro l'FCSB che non so che squadra sia va bene va bene ok la Champions è partita un po' un po' strana speriamo di approfittarne andiamo qua ai resoconti 17 anni 63 difensore centrale ma tu chi sei? tu sei un fenomeno pieno di crescita direi questo De Rosa non sale più questo Gosens che sembra Gosens ma più allungato nulla di che questo 16 anni un 61 fa un po' storcere il naso però sembra che possa crescere tanto quindi magari vediamo se con un piano di crescita più decente è tutto c'è in equilibrato ci mette 6 in tutto il resto Rossetti come siamo messi? grande Rossetti che sta partendo anche lui in maniera ottima deve cambiare miglioriamo sto tiro che dici va? facciamo così ok e che dire raga purtroppo anche questo episodio è finito nel prossimo ci aspetta la partita contro il Bayern in un girone che ha veramente preso una piega strana intanto Milanese sale 83 ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questo europeo come avevo chiesto all'inizio video come andrà soprattutto per l'Italia come andrà secondo il vostro modesto parere io mi sbilancio dicendo che magari l'Italia può dire la sua perché ci credo in questo gruppo e speriamo possa fare bene detto questo dal vostro velo è tutto se il video vi fosse piaciuto lasciate un mi piace un commento e condividetelo sempre con gli amici ringrazio tutti i nuovi iscritti come al solito e direi che ci possiamo vedere a un prossimo video che è vero che è vero posso vedere